Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio far vedere, sia chiaro non è un video di gameplay né un video di cosa ne penso Vi voglio unicamente far vedere tutta la roba che ci è arrivata di Deep Madness nel corso di due Kickstarter Perché lo sapete, già l'ho riportato in passato, comunque tanto metto una nota a video o andando a ritroso di quasi un anno nei miei video Troverete il gioco, il video del gioco principale che qui sono davanti Comunque, Deep Madness ha avuto due Kickstarter, il primo dove uscirono praticamente il gioco base Queste due espansioni che vedete da questa parte di qua, con gli eventuali kit di traduzione E poi anche tutta questa roba che vedete da quest'altra parte, forché questa qui, questa scatola è stata un'esclusiva invece della seconda edizione Della seconda stampa, second printing Più invece questa roba che vedete di qua, che sono comunque sempre espansioni, più la scatola in fondo che è un'altra esclusiva È tutta roba della seconda, però a parte una piccola espansione che è questa qui Un romanzo che non c'è ancora arrivato, ma perché non è arrivato a nessuno e lo vedremo più avanti Sicuramente nel corso del 2020, in marzo, aprile, una cosa del genere E questa scatola qui per mettere tutti quanti i token Era un'esclusiva della seconda E fecero una seconda stampa perché il gioco aveva riscosso un successo disumano E non c'è la versione retail di questo gioco, anche perché è già tradotto in italiano con i vari kit di traduzione che potete acquistare Quindi il gioco è già tradotto da loro E non penso che uscirà mai in versione retail E tra l'altro non si può nemmeno comprare dal loro sito Quindi anche se andate sul sito della Dimension Games Che noi ovviamente colgo l'occasione per ringraziarli La Dimension Games e Byron Che ci hanno mandato tutta questa roba Praticamente tutto il Kickstarter A parte qualche cosina che ora vi dico Grazie veramente di cuore Byron E grazie alla Dimension Games È un onore disumano collaborare con voi E fecero questa seconda stampa Perché tanta gente che si era perso il primo Kickstarter Disse no me lo sono perso, non lo sapevo Una cosa o un'altra Chissà dietro il board game è un po' impossibile Perdersi un Kickstarter così importante Però magari o può essere successo che non ti interessava Poi l'hai visto da qualche amico L'hai visto in vendita E ti è venuto in mente di voler fare Kickstarter Anche a te hanno fatto una seconda stampa Non cambia niente Non è una nuova edizione È la stessa Solo praticamente hanno dato la possibilità Anche a chi non l'aveva acquistato Anticipatamente di prenderlo Guardate qui Ora sposto Dracon Cioè il buco che ha lasciato nella libreria Deep Madness con tutte le espansioni Perché chi ha fatto tutto quanto il secondo Kickstarter Quindi ha preso tutto Non mi ricordo se lo stretch goal dell'All-In Veniva tipo 280 euro È una cosa del genere 300 che uno dice E poi so soldi alla pipide Sì so soldi ma sono anche 300 miniature Perché c'è il gioco base Che è quello che vi ho già fatto vedere nel video precedente Tanto poi vi faremo anche un gameplay Perché vi voglio far vedere anche Recensire ogni singola espansione Quindi per ogni espansione che vedete qui davanti Ci farà proprio un video a parte Una piccola recensione Un cosa ne penso E banale dirvi Ma ve l'ho sempre detto Senza mai nasconderlo Che io ho un gioco preferito per ogni genere Quindi nell'horror c'è uno Che sono le case della follia Nel genere fantasy c'è un altro Ma il mio GDR Scusate il mio board game preferito in assoluto È appunto Deep Madness Perché mi piace sia soprattutto Come ambientazione Come regolamento anche fatto bene Ma l'ambientazione è quella che mi ha toccato maggiormente E gioco base Che ha fatto tutto L'all in del pledge Poi qui davanti vedete l'espansione Uncanted Horrors Qua sotto Endless Nightmares Quelli che vedete qui ragazzi Sono kit di traduzione Per le espansioni che sono di qua Comunque con una spesa di 10 o 15 dollari Ve le potevate portare a casa Anche queste Praticamente traducono carte e regole Tutto Te compie l'espansione C'è tutto tradotto Poi The Faces of the Sphere Che è questa qua giù Che il kit di traduzione Non ce l'ha a parte Ma ce l'ha già dentro Quindi un'altra cosa buona Ed è bello perché inserisce Tutti quanti gli eroi del gioco Che sono gli eroi principali Non tutti tutti Perché sarebbero anche una ventina Ma i principali Sei eroi del gioco In versione Corrotti dal male Quindi dai demoni A questa entità Demoniaco Poi The Oracle's Betrayal Che è questa espansione qui Rise of Dagon Ragazzi ovviamente L'ispirazione principale La prende da Cthulhu E da Lovecraft Come tutti i giochi Di questo genere E questa qui sotto Che è una delle cose più belle Che ho mai visto in vita mia E qui davvero Valesse Se solo questa Fosse costata 100 euro Sarebbe da prenderla comunque Perché è la Profundumbox Che ora poi vi facciamo dire Nel corso del video E qui dentro Qui Ci vanno tutti i token Del gioco Siccome questo Scusate Token Carte Segnalini Tutto Forchè le pedine C'è un'altra scatola a parte E ora infatti In quello che non abbiamo preso Ve lo dico Qui ci vanno tutti i token Da di qualsiasi cosa Basta che non siano le miniature Per quanto qualcuno È riuscito a farcele entrare Comunque Questa scatola è divisa In scomparti Meno male Perché prima vi serviva Un tavolino Non scherzo Un tavolino a parte Perché sto gioco Ha tipo 500 600 token E so troppi Vi serviva un tavolino a parte Invece ora Tenete sta scatola a parte Sono tutti quanti divisi Più scomparti Dove mi serve quello Dove mi serve quell'altro E non vi potete assolutamente Sbagliare In più Poi Con tutte quante Le espansioni E il gioco base Era possibile Portarsi a casa Ed è quello Che non abbiamo preso Un'altra scatola Tipo la Profundum Solo di colore rosso Dove dentro C'erano addirittura I materassini In Foam Dove potevate mettere Tutte le miniature del gioco Perché se uno Volesse andare a casa Di un amico E è ingombrante da morire Portarsi dietro il gioco Con tutte le espansioni Ragazzi come fate Cioè veramente Peseranno 30 kg Tutte ste cose E sì che c'è un'altra scatola a parte E uno mette tutti i token Qui dentro Tutte le miniature Di tutte le espansioni Nell'altra scatola Se le porta a casa Tutte e due E quella rossa Non l'abbiamo presa Poi qui davanti Come vedete Che sono cadute Ci sono miniature Che ora tanto Vi facciamo vedere a parte Che sono tre miniature Particolari Queste due Qui nella fattispecie Queste due qui davanti Sono di questa espansione qui The Faces of the Sphere Mentre quest'altra qui È Lucas Kane Che praticamente Questa è la pedina Più importante Perché Byron Appunto uno Dello staff Della Dimension Game E designer Di Deep Madness Ha scritto un romanzo Un romanzo che non è ancora arrivato Nemenebaker L'avevano detto Ce lo manderanno a parte Nel corso dei primi mesi Primo quarto del 2020 E però dentro la pedina C'è che praticamente È il protagonista Di questo romanzo Più tutta la roba Che vedete qui E ora vi facciamo vedere Un pochino di cose Nel dettaglio Da vicino Poi ovviamente Vi do una valutazione finale Però vi ripeto Vedrete un video Per espansione Quindi tranquilli Vedrete in questo canale Altri dieci video Praticamente di Deep Madness Più i vari gameplay E poi in memoria Vi facciamo vedere Nella profondo unbox Come si dispongono Gli oggetti all'interno Gli oggetti Gli oggetti Gli oggetti Gli oggetti Questa è la Deep Madness Profundo Unbox È una delle due scatole che, come vi abbiamo detto, questa di colore blu tiene tutto del gioco Token, elementi 3D, porte, segnalini, carte, tutto, dadi dalla A alla Z A parte le miniature Le miniature, ora speriamo di riuscire a riprenderla perché mi piaceva anche come collezione Era un'altra scatola leggermente tipo così Così, leggermente più alta di questa, non tanto, un terzo in più Dove dentro, in tre strati, ci potevate mettere tutte le miniature E serve perché se lo volete anche portare a giro o di facile apertura per giocare e fare un setup veloce Insomma, vi conviene prendere anche quella rossa Se no vi toccherà andare a giro per troppe scatole Comunque, apriamo e vi faccio vedere com'è disposta la roba dentro Abbiamo tolto questi coperchi qui in plastica Che messi sopra, ovviamente, evitano che la roba possa uscire Si possa capo perché vi immaginate se questo si capovolge Ragazzi, senza offesa al gioco lo rivendete Perché guardate, la roba è disposta chirurgicamente Comunque, è tutto quanto disposto Secondo, cioè quando voi comprirete la Profundum Box C'è dentro un librettino, non vi preoccupate, che vi fa vedere lui come disporre le cose Quindi non vi potete sbagliare Comunque, ora, per farvi vedere tutti, sarebbe troppo lunga Per darvi un esempio, qui ci sono i marker di infestazione in 3D Che praticamente sarebbero questi segnalini qui Vedete, con le puntine Diventati in 3D Che sono roba del Kickstarter Quindi se qualcuno di voi ha fatto il Kickstarter e ha preso soltanto la scatola base E magari anche la Profundum Box Queste cosine qui non ce l'ha Poi abbiamo quello di infestazione generale E quello di attivazione Poi, di qua abbiamo ad esempio i segnalini lagato I vari obiettivi di missione Numerati Perché a volte in una missione vi potrebbe dire Dovete raggiungere l'obiettivo con la mano viola E cose del genere Quindi tutti i segnalini di missione sono messi qua Sanità mentale Qui punti ferite e quant'altro Tracciato della sequenza di autodistruzione E comunque, beh, per non farveli tutti, tutti, tutti Ad esempio portelloni chiusi in avaria e cose del genere E poi, alzando qui Che è la parte più importante Sotto vedete che ci sono tutti i manuali Compreso anche il manuale che vi dicevo di questa Profundum Box Dove vi spiega tutto In italiano, eh ragazzi? Deep Madness Siano benedetti la Dimension Games È tutto tradotto Quindi vi dice come mettere le cose E sotto abbiamo ovviamente i manuali di tutte quante le espansioni Quindi le trovate qui Incubi senza fine L'ascesa di Dagon E tutte le altre sotto Poi, spostando queste qui Sotto vedete tutte le carte Divise per tipo Che ne so Carte attivazione Carte compartimento Carte sanità mentale Tutte le carte della stessa dimensione Però divise per tipo Quaggiù in fondo abbiamo le carte Della grandezza di un tarocco Qui prendiamo Johnny il malvagio E il gatto di Amanda Weaver Che praticamente sono le carte dei mostri e dei personaggi Quindi tutte le carte in formato tarocco Vanno messe qua giù in fondo Qui invece abbiamo Vabbè, ci abbiamo messo anche il gatto di Amanda Weaver Qui abbiamo i contatori a negamento Che sono quelli per vedere quanto vi manca di ossigeno Prima di schiattare sott'acqua E questi vanno messi tutti qua giù Le basi sia per i personaggi Quindi giocatori che per i mostri Poi comparti piccoli Della mappa Per farvene vedere uno Quelli lunghi Comparti grandi della mappa Che sono quelli belli grossi quadrati E poi sotto Sotto qui ci sono anche le carte Doppelganger Ma è una cosa a parte Non ve le facciamo nemmeno vedere Tanto sono di un'espansione in particolare Mentre invece qua giù sotto Altre varie carte Tipo compartimenti Compartimenti infestati dei mostri Altri tipi di carte Del taglio più piccolo Perché le carte in questo gioco Ci hanno tre tagli Questo Quello dei tarocchi E queste piccoline Poi portelli in 3D Che anche questo sono aggiunta Di kickstarter Se no portelli normali Serebbero quelli normali E quelli in 3D Tra l'altro molto bellini Si possono riutilizzare tranquillamente Anche per altri giochi Tipo Nemesis O giochi futuristici Il dado dei mostri Il dado rosso di base Dei giocatori Dei player E poi La cosa più bellina I nuovi dadi Introdotti con L'espansione Faces of the sphere Che sono questi dadi Sono gli stessi Potete giocare con una collata Però colorati di verde Che secondo me Sono molto 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 più fighi E questa ragazzi È la profonda unbox Tutta quanta divisa In questa maniera Che vedete Le cose Bene o male Le andate a ridisporre Sempre come sono segnate Quassù in cima Quindi non vi preoccupate Perché tanto Sono tutto qui Anzi addirittura Vi dice questa è roba Di un'espansione in particolare Butta tutto lì Questa è roba di un'altra Voi mettete le cose Direttamente scritto qui Poi ovviamente Andate a ricoprire sopra Con la parte in plastica Perché se no la roba Vi scappa e vi va in giro Comunque la disposizione È questa qua E a questo punto Mettendo tutte le cosine Belline cosine Vostri scomparti Ragazzi Il gioco cambia Perché come vedete Ancora 7 milioni di token Io fossi stato Della Dimension Games Ne avrei fatti Veramente meno Quindi ancora tantissimi token Però ora sono divisi Ora Mi servono i token De punti ferita Quando li buttate sul tavolino In stile Coriandoli Non li trovate mai Invece andando qui Toccio quelli punti ferita Mi serve un token Del personaggio di Asimov Non mi ricordo dov'è Ce l'avete qui Ora perlomeno La roba è divisa E la troverete sicuramente Molto più facilmente Quindi ovviamente Vi si è fatto vedere un po' Come è messa la roba dentro Abbiamo svuotato Tutte quante le espansioni Quindi sia nel gioco base Che nelle espansioni Sono rimaste Soltanto le miniature Perché i regolamenti Token e tutte le carte E tutto il resto Sono dentro La profonda un box Come detto Faremo un video Per ciascuna delle espansioni Quindi proprio Vi da parte Cosa ne penso Con il voto finale Tutto quanto Perché ci interessa molto Anche fare una serie Su Deep Madness Più ovviamente Tutti quanti i gameplay Che verranno Quindi quando faremo La parte unboxing Delle varie espansioni Dentro non ci saranno Ci saranno soltanto Le miniature Tanto comunque Roba che avete già rivisto qui Ragazzi È veramente una figata assurda Io spero che tanti di voi Abbiano fatto il Kickstarter Perché il secondo A maggior azione del primo Aveva molta più roba Però hanno fatto una cosa bella Perché uno dice Io ho già fatto il primo Se nel secondo Volesse andare a comprare qualcosa Non è che mi tocca Rifare tutto quanto Un pledge Riprendere tutto Anche perché se prende I vari stretch Con le varie add-on Spendo molti più soldi Che a prendere tutto nel pacchetto No hanno fatto una figata Che chi tornava E dimostrava Di essere un baker Della prima stampa Aveva degli sconti Tipo l'espansione Non lo so Non la pagavi 40 euro 40 dollari E quant'erano Ma magari la pagavi 30 35 Quindi comunque Hanno fatto degli sconti Veramente interessanti Per far tornare Gente Ovviamente vecchi baker A comprare anche la roba nuova E ve l'ho detto Di tutto quello che avete visto Tutto Ci manca il romanzo Ma che ci arriva Solo che vi ho detto Arriverà nel corso del 2020 Ci manca la seconda scatola rossa Dove invece Un po' più grande Dove mettere tutte quante Le miniature Ma farò il possibile Per averla Solo che la scatola Quella rossa Quella non era opzionale E mi pento di non averla presa Perché ci mettevo Tutte le miniature E c'era dentro anche il foam Comunque ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Non vi posso dire Trovate il link in descrizione Dove acquistarlo Perché non si acquista E Era soltanto una cosa Di kickstarter Per i baker È possibile Trovarlo anche Su gruppi Di condivisione Vendita Board game Però comunque Sappiate che Chi l'ha comprata Ha fatto il kickstarter E lo rivende Comunque il prezzo È abbastanza alto Perlomeno lo rivende Al prezzo che l'ha pagato Che si andava intorno A 280 300 euro Ma per avere tutto Quello che avete visto Se no Con 120 euro Ti portava a casa Il gioco di base Più due espansioni Ovviamente questa roba qui E tutto il resto Erano stretch goal A parte E scusate Erano add-on Che andavano pagati A parte Quindi questa roba qui No Fatemi sapere Cosa ne pensate In un commento E io ve l'ho detto Porterò tanti gameplay Con mia moglie Ora soprattutto Che abbiamo questo Che divide tutto quanto E non si deve più Prendere tre quarti Del tavolo per i token E per me Ragazzi È il gioco In assoluto Più bello Lunga vita La Dimension Games Grazie davvero di cuore Grazie Byron E al prossimo video Ci vediamo Ciao